Sono voluta venirti a conoscere perché a dire il vero, il tuo olio, ma mi sembra quasi, non lo so, è difficile chiamarlo tale perché questa è la confezione, sembra veramente un profumo e il suo sapore non tradisce l'aspettativa, è bellissimo e quindi mi incuriosiva questa storia. La riassumo velocemente, tu un trascorso televisivo anziché anche il tuo presente perché continua a fare la consulenza, partita in Mediaset ma dopo lancio della 7, Endemol, All Music all'epoca e adesso ti occupi anche di questa azienda agricola, biologica, olio di qualità e rappresenti quello che proprio a tutti gli effetti è la qualità italiana, un made in Italy che forse dovremmo difendere anziché boicottare perché poi ci racconterai le difficoltà che si trovano. E ecco, parlaci un po' insomma come viene l'idea e soprattutto come la stai portando avanti. Ma sono partita dal fatto che l'olio è sempre stato un alimento che mi è piaciuto tantissimo sia dal punto di vista del gusto che anche dal punto di vista nutrizionale perché oltre a appunto avere un'alimentazione tipicamente mediterranea quindi a sfruttarlo dal punto di vista per mettere sulle verdure, sulla pasta eccetera, mi è sempre stato consigliato da medici magari più sul naturale di consumarlo proprio per queste sostanze benefiche e quindi questi polifenoli di cui è ricco che sono sostanze anti-invecchiamento, con proprietà antitumorali eccetera eccetera. Quindi quando l'avventura è nata dal fatto appunto da questa grandissima passione e a un certo punto forse quasi per caso mi sono trovata a essere diventata una produttrice e da semplice consumatrice sono diventata una produttrice. Una produttrice appunto di un olio ma biologico proprio perché tutte queste, cioè quello che dicevo prima cioè il fatto di avere un prodotto salutare non può non passare dal fatto di produrre in biologico e quindi da levitare tutta una serie di sostanze dannose per l'oliva. Siccome quantomeno in Italia perché all'estero la cosa è completamente diversa, il tutto quello che è biologico è naturale, di solito è bruttino e proprio in una nicchia completamente separata invece da quella che è il ristorante anche elegante con un certo glamour, con una certa immagine la sfida è stata quella di partire dalla cosa salutare ma arrivare ad avere una confezione che fosse invece appealing dal punto di vista estetico e credo che questa sfida sia stata superata tant'è che in realtà importanti come ristoranti, siamo in un importante ristorante di via Monte Napoleone siamo sugli scaffali di realtà importanti appunto al fianco di prodotti d'eccellenza quindi questa sfida devo dire che è stata al momento superata. Torniamo un attimo sulle caratteristiche organoelettriche perché so che c'è stato tra l'altro un recente convegno se non erro sabato avete parlato, cioè avete stretto anche una partnership con un biologo insomma che attesta la qualità di questo prodotto e la differenza, cioè il biologico fa proprio la differenza, magari la maggior parte dei consumatori penso non lo sappia che tutti gli oli fanno bene ma non tutti fanno così bene. Esattamente, diciamo che qualche mese fa sono venuta a conoscenza di questa persona che da anni, questo biologo nutrizionista che da anni si occupa di studi sull'alimentazione quindi insegna alla facoltà di scienza alimentare di Parma e ha un suo centro, questo AF Biomed che si occupa proprio di diciamo prendere delle persone e curare l'alimentazione di queste persone fino a farle arrivare ad uno stato di salute diciamo in assenza di particolari malattie eccetera uno stato di salute diciamo eccellente semplicemente attraverso gli alimenti. Tutto questo è la nutraceutica, cioè il fatto di curarsi nutriendosi ma anche nutriendosi in modo gradevole appunto proprio se la sfida è questa, esatto, autopunirsi. Quindi tra l'altro loro sono partiti dalla rivalutazione di questo grano antico di cui io neanche conoscevo l'esistenza che è questo monococco, un farro antico che è buonissimo ed ha una percentuale proteica altissima quindi oltretutto oltre a tenere basso l'indice glicemico è anche non dico dimagrante ma non fa ingrassare quindi questa pasta super proteica con l'olio sono un concentrato e chiaramente verdure e chiaramente visto che peraltro il nutrizionista lavora su parma anche un po' di parmigiano quindi appunto non in modo punitivo ma si riesce appunto a mangiare bene e sano ma anche appunto appagando il gusto siamo riusciti appunto a stringere questa collaborazione siamo entrati in questi corsi dell'Accademia Barilla tenuti appunto dal dottor Traversa e tutto questo è culminato in questo congresso che si è tenuto sabato a Parma dove al fianco del dottor Vito Traversa e altri importanti medici io parlavo del nostro olio e quindi dopo aver ascoltato questi illustri professori che raccontavano del perché in realtà un prodotto come questo fa bene io ho raccontato la nostra storia la nostra storia appunto da consumatori a produttori e adesso ti faccio riscendere un po' coi piedi per terra perché diciamo che storie di eccellenza di qualità in Italia hanno anche il loro risvolto non dico negativo però di difficoltà perché insomma non è sempre facile riuscire a portarla avanti parliamo poi di nicchie quindi di numeri che probabilmente non trovano facilità in strategie distributive classiche quindi come vi state muovendo voi da questo punto di vista è possibile sostenere e fare eccellenza in Italia si trovano i canali giusti qual è insomma il nodo perché noi diciamo che poi potrebbe essere veramente la via di un Made in Italy di cui far parlare anche all'estero con orgoglio sì non è semplice non è semplice appunto prima di tutto perché per arrivare a produrre un olio biologico sicuramente i costi per il produttore sono più elevati e quindi poi questi costi purtroppo devono anche essere dei costi con cui il consumatore deve fare i conti perché chiaramente c'è sempre quella percentuale di costo in più che uno paga per avere un prodotto di qualità questo anche per quanto riguarda non solo per quanto riguarda il biologico ma anche proprio la qualità del sapore di un cibo passa attraverso questo quindi grande ricerca grande attenzione al dettaglio però devo dire che appunto ultimamente mi sembra che l'attenzione sia dei consumatori che anche di chi ci compra l'olio quindi ristoranti e negozi di delicatesse e drogherie di lusso è molto l'attenzione si è spostata si è spostata in alto nel senso che prima era molto più difficile per un prodotto come questo io l'ho notato anche in un paio d'anni cioè viene richiesto molto di più di quanto non fosse richiesto in passato e c'è anche una conoscenza maggiore della qualità cioè se prima veniva confrontato con un olio più mass market più industriale oggi questo non capita più dopodiché proprio per questo ci siamo in questo momento insomma ci siamo siamo entrati a far parte di questo portale che si chiama l'Italia dei talenti che ha messo insieme persone con realtà simile alle nostre quindi realtà di nicchia che quindi non sono in questo momento strutturate per avere una distribuzione di un certo tipo né supporterebbero probabilmente una distribuzione di un certo tipo ma hanno bisogno di un'attenzione maggiore proprio a quello che è la qualità mi viene da dire anche perché dal punto di vista della comunicazione appunto di eventuali logistiche per la distribuzione e così via probabilmente è anche una via questo di aggregare contenuti di qualità per parlare di un brand superiore che è il Made in Italy di eccellenza aggregando magari e superando i limiti del nanismo delle nostre imprese che qui io penso che poi non può neanche crescere oltre un certo limite la qualità o no cioè insomma aziende come la vostra hanno un limite dimensionale pena perdere l'appellativo di talentuose di ottime questa è una bella domanda io credo che si possa riuscire a conservare l'artigianalità anche aumentando i numeri è questione di appunto di tenere l'attenzione sempre destra su quelli che sono i dettagli che dicevo prima perché ogni singolo dettaglio è importante se uno nel caso dell'olio appunto si va dalla coltivazione dove se tu ritardi la raccolta di una settimana sei uscito completamente da quelli che sono i parametri a chiaramente dettagli di etichetta o appunto di blend cioè fare il blend significa lavorarci sopra giorni e giorni e nel momento in cui il prodotto diventa cioè si passa a tot litri a tot non so quanti mila litri questo credo si possa conservare ma appunto sempre con questa grandissima attenzione cioè non non si può almeno per quanto riguarda noi nel momento in cui appunto stiamo anche adesso crescendo però questo tipo di attenzione deve essere conservata poi è chiaro che se i numeri arrivano ma in questo momento non ci sto neanche pensando i numeri arrivano a delle cifre spropositate credo che sia complicato conservare questo valore